sport piceno game presenta l'intervista di pietro allora la prima domanda è la più semplice ormai un cliché che utilizziamo sempre oppure la più complessa chi è gioacchino allora gioacchino è un appassionato del mondo della televisione fin da quando era bambino che ha sempre guardato con con occhio molto attento tutto il mondo il mondo della televisione del dello spettacolo e che piano piano ha fatto in modo di avvicinarsi per entrare nei corridoi chiamiamoli così del del mondo del dello spettacolo nel mondo dell'intrattenimento e che con tanta fatica molto impegno è animato sempre dalla grande passione perché come stavi dicendo tu non è che ci sia sempre subito da guadagnare da vivere è riuscito a farne dalla propria passione riuscita a farne il proprio mestiere ecco lavori non solo col mondo del doppiaggio ma tutte le parti dello spettacolo perché fa anche musica cioè non ti occupi anche del settore musicale e dell'audiolibro esatto noi ci occupiamo del del settore musicale io sono molto più orientato per quanto riguarda tutto quello che è la voce ok doppiaggio interpretazione di audiolibri e il mio socio che con me ha fondato questa nuova realtà che ho deciso di mettere in piedi due anni e mezzo fa dopo una lunga esperienza presso una delle storiche aziende di doppiaggio milanesi che si occupa lui di musica maestro savio valeo che è compositore musicista ultime collaborazioni comunque fatte per quanto riguarda la musica abbiamo realizzato delle delle sigle di cartone animati dove canta santo verducci che anche lui è un noto direttore di doppiaggio doppiatore cantante che sono uscite ultimamente con la sua compilation con tactus 6 ecco queste sono le ultime cose fatte nella nel mondo nel mondo del musica poi utilizzato sigle e colonne sonore per podcast e qualcosa con qualche amico cantante ecco cosina più diciamo a livello indipendente autoprodotto ecco come è cambiato il mondo del doppiaggio e dell'audiolibro da quando iniziato comunque da quando facevi ad oggi che hai comunque questa società che urban cave e urban che il studio esatto ma diciamo che l'evoluzione ha seguito un po l'andamento dei tempi si è adeguato un po alla modernizzazione di tutto quanto i tempi sono diventati più più veloci ecco se prima si andava molto più lentamente c'erano dei tempi un po più dilatati per per realizzare le varie produzioni adesso i tempi si sono notevolmente accorciati ecco grazie anche poi l'introduzione comunque delle nuove tecnologie si è passato dall analogico al digitale quindi è diventato tutto più rapido e più e più veloce anche perché poi comunque le produzioni sono sempre sono sono aumentato anche la quantità di produzioni con l'avvento delle piattaforme streaming e quant'altro i cataloghi sono sono sempre più ricchi e quindi diciamo che la produzione è diventata una quasi proprio veramente una catena di produzione ecco e abbiamo notato che in alcune situazioni alcuni doppiatori che abbiamo intervistato nel tempo ci dicono che ci sia nel videogioco si tiene conto anche della forma d'onda ma alcune piattaforme tenevano conto che il fatto che deve rientrare in quel range perché altrimenti deve essere per tutti standard francese l'italiano spagnolo deve rientrare in quello standard è così oppure cose sono cambiate no adesso soprattutto è diventato sempre più così sempre più così per quanto riguarda appunto queste piattaforme di streaming dove sono disponibili i doppiaggi in varie lingue e praticamente devono essere devono il doppiaggio appunto come dici tu come nel videogioco per il doppiaggio fatto nel videogioco bisogna stare sulla lunghezza della dell'onda sonora si doppia proprio avendo a video l'onda sonora e non il videogioco come invece per il doppiaggio sia a disposizione il video come riferimento per la lunghezza della battuta da dire delle parole da dire e in base a diciamo chi è il committente che commissiona il lavoro che commissiona il doppiaggio può avere questo tipo di esigenza perché i loro controlli i loro cussi molte volte non c'è il lumino che li fa ma ci sono delle macchine che praticamente passano tutte le versioni tutti il doppiaggio italiano tedesco spagnolo francese russo nella macchina e li confrontano e li confrontano con il mix della versione originale e quindi devono praticamente devono combaciare perfettamente tutte 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 le onde gli effetti che vengono che vengono inseriti hanno un minimo di di tolleranza ma la tolleranza diventa sempre meno ecco ci sono ci sono dei cussi che sono veramente maniacali appunto perché sono fatti sono fatti spesso da macchina ecco e quindi diventa ancora più tecnica la cosa nel nel dover seguire appunto le onde anche nel campo del doppiaggio tante volte si hanno si perseguire per seguirà proprio le onde la lunghezza delle onde noi che siamo abituati per dire a doppiare sul video perché il doppiaggio si fa sul video sulla faccia del del o dell'umano o del cartone animato a volte abbiamo delle sensazioni che la battuta ci sembra corta e vorremmo vorremmo andare a coprire quel battito che che rimane vuoto ma dovendo rimanere all'interno di queste di queste specifiche dobbiamo stare nella dire ok va bene così perché la lunghezza d'onda c'è ed è molto difficile a volte anche per rispettare appunto le scansioni del dell'originale scrivere i dialoghi scrivere le battute in modo filante per non andare a discapito proprio della della lingua italiana a volte ci sono veramente dei problemi perché interrompono il la battuta in un certo punto queste pause tra le onde bisogna un pochettino vedere di aggiustare lì l'adattatore deve fare un grande lavoro il doppiaggio c'è il doppiaggio dovrebbe essere quello voglio dire è il doppia si doppia video cioè quando una volta si doppiava addirittura senza audio in cuffia si ci hanno raccontato anche questo si doppiava addirittura senza audio in cuffia adesso invece ci si trova a fare i conti con l'onda cioè si entra in questo nuovo universo che che ti assicuro è abbastanza frustrante e frustrante per molti per molti appunto perché si è abituati a seguire a seguire gli occhi la bocca questo è limitante andiamo avanti all'istinto del doppiatore per dire sui cartoni animati e doppiare anche un movimento degli occhi adesso però siamo nel 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 momento che se non c'è in originale non va affatto ok si quindi se l'originale è così e se noi ci accorgiamo che l'originale è sbagliato capito e quindi noi dobbiamo farlo in quel modo perché in quel modo nonostante noi sembri sbagliato è giusto quindi bisogna uscire a sganciarsi da questa da quest'ottica che è un po' frustrante e deprimente perché chiaramente poi il lavoro che viene fatto è a disposizione di tutti diventa pubblico chi non conosce questi retroscena dovuti alla alle produzioni alle produzioni dei giorni nostri può pensare che quello sia un errore per dire capita di vedere dei lavori fatti ad hoc fatti in maniera ineccepibile per quanto riguarda appunto questi cussi che sono sempre più maniacali che sono sempre più maniacali che il cussi non ha niente e nulla da eccipire noi guardiamo i video e diciamo ma sì va bene funziona tutto i dialoghi ci stanno gli attori si parlano le battute sono dette bene però ci sono dei corti capito ma in realtà in realtà corti non sono perché sono proprio come l'originale c'è proprio la copia dell'originale anche questo ce l'hanno accettato capito e quindi è un po così è bello quando si invece c'è sia carta bianca dove si può lavorare sul video sulla faccia del cartone animato sull'attore e seguirlo ancora di più e seguirlo ancora di più beh certo che poi parlando dei telefilm questi problemi non ci sono questi problemi magari sono più inerenti alla parte dell'animazione perché anche i cartoni animati all'estero non sono fatti come in Italia ecco cioè hanno uno stile interpretativo qua si chiama più spicherato rispetto a tutti i colori che vengono messi dai doppiatori italiani nell'interpretare nell'arricchieri appunto appunto i cartoni animati sulle serie televisive lì è un pochettino diverso lì se ti dimentichi di fare un fiato ti arriva il così con scritto breath miss missing breath ok e quindi quel fiato va assolutamente messo ci sono dei così cioè nel senso questi questi così da una parte sono questo seguire dall'onda da una parte può essere frustrante per per noi per l'attore perché deve stare appunto appresso dietro molto diventa più una questione tecnica che artistica capisci stare sull'onda e da un altro punto da un altro punto di vista però per determinate produzioni come che possono essere quelle fatte a Los Angeles negli Stati Uniti dalle grandi measure che curano in maniera particolare investono parecchio nei loro prodotti vogliono un doppiaggio che sia perfettamente identico all'originale tant'è che è capitato anche è capitato anche che ci venissero chiesti dei rifacimenti su delle semplici sporcature che dovevano essere identiche identiche all'originale quindi si entra in quest'ottica e bisogna comunque accettarla perché è un si è evoluto il mondo il mondo del lavoro forse era questo quello che nottevamo che nel nei cartoni emmati a volte si capita che il linguaggio sono troppo banali o sono troppo fantascientifici non esistono una scelta che fa il direttore del doppiaggio che vuole dare un determinato impianto alla direzione al lavoro che fa e si muove decide di andare in una certa direzione magari decide di andare verso un linguaggio più semplice perché magari può essere anche questa l'indicazione che viene data appunto dal cliente o può essere una mera scelta artistica da parte del direttore del doppiaggio e quindi è così tante volte magari si vedono delle cose che all'atto non si capiscono dipendono molto dal gusto che in realtà poi sono delle scelte stilistiche che vengono chieste e quindi adottate ecco che nel guerriero stiamo parlando di un cartone animato di parecchi di parecchi anni fa per dire se vogliamo se l'uomo tigre non so se ti ricordo l'hai mai visto se adesso si adopera una dizione una dizione perfetta se vuoi sentire l'uomo tigre sentirai un lieve accento milanese sì un pochettino infatti qual è il lavoro che ti ha dato più soddisfazioni quelli che avete finora trattato e quello che vi ha dato più complicazioni nel fare però alla fine vi ha lasciato una grande soddisfazione ma con grande difficoltà beh guarda parlando di lunghezze d'onda da rispettare di difficoltà e tutto e di complessità posso citarti l'ultimo lavoro che abbiamo fatto abbiamo realizzato la settima e l'ottava stagione di Voltron che è un cartone animato della Dream Wars che è disponibile su Netflix che è stato particolarmente impegnativo appunto per la costruzione di dialoghi visto il dover stare il dover stare è impegnato appunto per dei tempi di lavoro molto 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 stretti ed è stato particolarmente impegnativo abbiamo fatto nove ore di studio per sei giorni a settimana per tutto un mese con una grande cast di doppiatori e questa è stata una grande soddisfazione ma comunque ogni lavoro che facciamo ci dà soddisfazione perché se non fosse così non ci divertiremo più ecco ad affrontare appunto tutte le difficoltà che presenta la realizzazione di ogni cosa che facciamo scegliere un doppiatore per un personaggio è complicato oppure ti adatti e cerchi comunque di adattare il personaggio al doppiatore o il doppiatore al personaggio beh quando vedi un personaggio di solito ti viene in mente anche il doppiatore di solito lo riconduci immediatamente immediatamente un doppiatore oppure pensi e immagini il personaggio come lo vorresti come vorresti sentire ti viene subito in mente il doppiatore a volte può essere complicato perché magari viene richiesto un particolare match vocale con l'attore originale allora lì bisogna cercare la voce giusta perché poi anche questa magari deve passare per un casting per un'approvazione ma solitamente quando si vede un personaggio a video che sia di un cartone animato o di un telefilm o di un film immediatamente ci viene in mente chi è il doppiatore giusto per quel personaggio ecco non ci si improvvisa doppiatori ma loro si definiscono cioè il doppiatore è un doppiatore perché deve saper fare oltre che ha fatto ha imparato il teatro e tante cose ma ha fatto ha studiato perché non dall'oggi al domani non è detto avere una bella voce significa essere doppiatori esatto esatto tutte le voci allora la questione della bella voce se hai una bella voce è un plus se hai una bella voce se suoni bene ma tutte le voci se si impara a usarla possono andare bene per il doppiaggio il discorso appunto che non ci si può improvvisare doppiatori ci sono persone che dedicano i doppiatori dedicano praticamente la loro esistenza per per diventare bravi e crescere e sempre più bravi si impegnano perché non è non è una cosa semplicissima non è proprio una specializzazione del campo attoriale perché praticamente quando sei quando entri in sala tu sei come un atleta sei come un atleta ti faccio l'esempio per farti capire bene un atleta che corre che sta correndo che è già lì che corre il doppiatore arriva lo vede deve cominciare a respirare insieme al corridore praticamente prenderne il passo eh fino a quando diventa e si muove proprio in contemporanea come il corridore che ha affiancato capisci e lo deve fare seguendo quel corridore i suoi movimenti deve diventare un tutt'uno con con l'attore che doppia deve nascondersi dietro dietro la sua faccia un altro un altro esempio che ti posso fare per dire se tracciamo una riga una riga che è già tracciata il doppiatore deve essere capace di andarci perfettamente sopra ecco poi tra l'altro il doppiatore che entra in sala non è che ha la possibilità come il direttore di doppiaggio di vedere tutte di vedere tutto quello che si andrà a doppiare tutti i video non conosce tutta la storia che che ci può essere dietro una una sceneggiatura arriva in sala e gli si dice guarda tu oggi sei Kevin tu oggi sei Kevin e dopo il direttore deve spiegare deve spiegare ma in pochissimo tempo al doppiatore il personaggio deve spiegare in pochissimo tempo al doppiatore quella che si chiama la sinossi e poi il doppiatore deve essere molto bravo i doppiatori sono bravi sono degli ottimi psicologi perché vedono il personaggio in video guardano la scena e capiscono immediatamente la psicologia del personaggio che devono che devono andare a interpretare avviene tutto in tempi in tempi brevissimi un turno di doppiaggio dura dura tre ore tu arrivi arrivano per affrontare un nuovo personaggio e in poco tempo riescono appunto a prendere e cominciare a respirare a muoversi e andare avanti e diventare quel personaggio ecco non è una cosa semplice non ci si può improvvisare a doppiatori ecco sì ed è un lavoro non è un divertimento è un lavoro che deve essere pagato ma soprattutto deve essere rispettato certo come tutti gli altri lavori perché meritano perché no perché noi parliamo di cultura ultimamente ma la cultura ha i costi cioè la fine mese tutti hanno le bollette da pagare e tutti hanno la necessità di poter portare a casa poter vivere una vita normale ecco perché no perché ultimamente con questa pandemia abbiamo dimenticato che sì tutta la cultura ma c'è stata a lavorare molti molti attori molti tecnici la fortuna vostra cioè la fortuna che voi lavorate in studio e quindi avete un po' meno difficoltà ma chi lavora sul territorio ha difficoltà sicuramente di lavorare il mondo dello spettacolo ha subito un forte colpo per via della pandemia i teatri sono stati chiusi molti tecnici live non hanno potuto lavorare non sono partiti per fare le varie tornee tutti i concerti che sono sono stati cancellati i cinema sono stati chiusi noi studio siamo stati tra virgolette più fortunati ci siamo dovuti adattare al periodo utilizzando tutte le varie precauzioni comprando le varie cose che servono per fare le sanificazioni e quant'altro ma abbiamo anche noi comunque ridotto un pochettino il lavoro rispetto a prima della pandemia ecco appunto per poter garantire la sicurezza al lavoratore ecco ciao a tutti è stato un piacere un saluto a tutti gli spettatori di Sport Piceno Game a presto grazie grazie a te Pietro Sport Piceno Game presenta l'intervista di Pietro grazie a te Pietro